La corretta progettazione di una cappottatura risponde ad assolve innanzitutto ai requisiti di legge contenuti nei decreti legislativi relativi al rendimento energetico degli edifici, in particolare al decreto legislativo 192 del 2005 e sue modifiche e integrazioni dei relativi decreti attuativi. Sia nel caso di nuove costruzioni che in caso di ristrutturazioni parziali o integrali, è obbligatorio il raggiungimento di valori relativi agli indici di efficienza energetica al di sotto dei limiti di soglia. Da una progettazione e da una messa in opera a norma di legge si determinano inoltre ulteriori benefici, tra cui un beneficio economico-ambientale dovuto alla riduzione dei consumi energetici e dei servizi di climatizzazione sia estiva che invernale. Inoltre si determina un beneficio di conforto abitativo. E' possibile determinare la riduzione dei fabbisogni di energia primaria attraverso gli usuali strumenti adottati per l'elaborazione della certificazione energetica, simulando le condizioni anteriormente e posteriormente all'intervento. In alternativa è possibile determinare una riduzione dei consumi energetici attraverso la scheda emanata dall'autorità dell'energia e del gas relativamente ai meccanismi di titolo di efficienza energetica. Consideriamo ad esempio un caso di una palazzina sita in Milano degli anni 70 ed un intervento su un prospetto di 500 metri quadri. Con tale metodologia si può stimare un risparmio di energia primaria pari a 1,95 TEP equivalenti a 22,6 MWh termici. In termini economici si stima pertanto un risparmio di circa 2350 metri cubi di gas metano equivalente a 1600 Euro di risparmio, considera ipotizzando un costo del metano pari a 0,8 Euro a metro cubo. In termini ambientali invece si può stimare una mancata emissione di CO2 pari a 4,7 tonnellate all'anno. È possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 55% del meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Considerando sempre l'esempio precedente, stimando un costo dell'intervento di circa 40.000 Euro, si possono ottenere le seguenti incentivazioni. 22.000 Euro da parte delle detrazioni del 55% suddiviso in 10 rate annuali ed un incentivo di circa 4.300 Euro dovuti a 48 titoli di efficienza energetica attraverso appunto il meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Sommando quindi questi incentivi a un minor consumo di energia primaria, si può stimare un tempo di ritorno dell'intervento di circa 9 anni. Ricordiamo inoltre che per accedere agli incentivi del 55% è necessario che l'intervento raggiunga dei valori di trasmittanza inferiore ai valori limiti prestabiliti di legge. Mentre per accedere a un progetto attraverso il meccanismo dei titoli di efficienza energetica occorre una soglia minima da raggiungere pari a 20 TEP. Grazie per la visione!